Eccoci con un nuovo video sul canale YouTube delle Arene. Cosa cerca un turista quando visita una città? Andiamo a scoprirlo per le vie di Varese. I paesaggi, serali, notturni, vita un po' allo sballo, ma anche per cibo tipico. Secondo me cerca un'atmosfera, cerca dei luoghi che possano evocare qualche sensazione o sentimento. Al di là dei musei o dei luoghi dell'arte, della cultura, anche un po' penso a come vive la gente, all'ambiente. Secondo me cerca i musei, i posti più belli, c'è anche altri che vengono per fare la vita notturna, guardare le donne. A conoscere altre culture, conoscere un po' la storia, visto che Europa è un continente vecchio. Sicuramente cerco una città molto ospitale, con dei luoghi di ritrovo, come discoteche, locali comunque per giovani, per divertirsi, ma anche per i meno giovani. Musei e soprattutto le chiese molto importanti per il turismo e per noi italiani. No, io in una città cerco la sicurezza, basta. E ci siamo anche chiesti, quale città avete preferito visitare? Firenze, sulla Ponte Vecchio è, cioè, I love Firenze, the best. Prima di tutto Roma. Madrid, un po' perché da Mediterranea forse amo il clima e la luce. Barcellona, praticamente mi piace tantissimo perché si trovano tante culture nello stesso posto e poi è una città molto libera. La mia città preferita è Praga, l'ho visitata quando avevo 11 anni e mi è rimasta impressa perché è stata la prima città europea che ho visitato. I try to make sure I see the most important thing in the city, so I know I'm traveling to a certain city. I do some research, I want to see the historical things, the buildings, the old churches, the things like that. And the city centers and, you know, there's a lot to see and I try to see the most when I go to travel. And what's your favorite town? Oh, man. In Italy, I enjoy Rome. Rome was very nice. I got to spend some time there. It was very, very nice. Okay, thank you. All right, thank you.